Lì era il posto speciale per i discorsi di Mussolini. Allora a scuola ci dicevano domani venite tutti vestiti in divisa. Arriviamo a scuola, non c'era classe, scuola in divisa. C'era un sergente che veniva a prenderci, ci portava qui al mandracchio, c'erano gli altoparlanti, pieni altoparlanti, aspettare il discorso di Mussolini in diretta. Mussolini cominciava italiani, è meglio vivere un giorno da leone che cent'anni da pecora. Se avanzo, seguitemi, se dietro a giù, uccidetemi. E noi Duce, 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 bisognava gridare forte perché Duce potesse sentirci a noi che gridavamo.